Salve a tutti e ben ritornati dal vostro Joe, siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis, pensavate mi fossi scordato di voi e invece no ragazzi, non vi preoccupate, nonostante io sia molto preso e stia dedicando maggior parte del mio tempo personale e ovviamente del canale perché sto cercando di fare le cose come Dio comandi, mi sto dedicando tantissimo ad Aiden Chronicle, quindi ovviamente mi trovate in live solitamente a partire dalle 21 sul canale Twitch, quindi se volete venire a fare due ghiacchiere e ovviamente volete seguire questo titolo mi trovate in live, ma cosa importante è che non mi sono dimenticato diciamo di Ever Crisis, è vero che Ever Crisis comunque ha dei tempi molto dilatati perché essendo comunque un gacha ed essendo comunque un gioco che non rilascia eventi tutti i giorni, mi permette comunque di potermi ci dedicare un po' per volta anche durante stracci di tempo libero. Per quanto riguarda ovviamente le notizie che sono state aggiunte sia ieri 1 maggio e ovviamente oggi 2 maggio, ho voluto necessariamente aspettare perché le volevo commentare insieme a voi, ma ne volevo commentare una in particolare che penso sia la notizia più importante che commenteremo in questo video. Cominciamo dal ritorno dei Crysis Dungeon vecchi, quindi quelli che abbiamo avuto praticamente a inizio gioco, ovvero la costruzione Shinra, quindi la Shinra Building, ovvero i laboratori fondamentalmente Shinra, il Monte Nibel, l'industria o comunque la factory abbandonata, e poi anche la caverna di Rador. Quindi sono dungeon che noi comunque abbiamo già fatto, trovate comunque anche le guide presenti all'interno della mia playlist o cercando ovviamente i video corrispondenti sul mio canale YouTube, troverete le guide per poter risolvere al meglio questi dungeon. Quindi se non siete riusciti a completarli in precedenza e adesso, passato un po' di tempo, avete finalmente la possibilità di costruire dei team adatti all'esigenza, potrete finalmente completare con il rango massimo questi dungeon. Vi ricordo che è anche possibile recuperare un'altra copia della Buster Sword, essendo scattato comunque il mese nuovo. Vi ricordo che ogni mese avrete a disposizione, tramite appunto i Crisis Coin, la possibilità di poter scambiare una copia al mese della Buster Sword per portarla ovviamente al livello massimo, quindi se non l'avete riscattata, fatelo. Qui invece abbiamo una illustrazione generale delle campagne del mese, un po' come tutti i mesi abbiamo un riferimento per quelle che saranno le varie campagne di potenziamento e ovviamente le campagne per ottenere anche più oggetti. Infatti cominceremo subito a partire dal 5 maggio fino al 12, dove avremo il boost per quanto riguarda il Character Experience, quindi tutti i personaggi avranno modo di incrementare la loro esperienza. Tramite ovviamente le quest specifiche, quindi l'ammontare dei personaggi tramite appunto le quest growth, quindi crescita, viene incrementato del 20% e ovviamente anche l'ammontare delle ricompense che si ottengono all'interno delle quest growth aumentano del 20%. Successivamente dal 12 maggio al 19, che tra l'altro per noi sarebbero dal 6 maggio al 13, perché vi ricordo appunto che l'orario qui è calcolato dal punto di vista del fuso orario del Pacifico, quindi da noi saranno praticamente la mattina, o comunque fondamentalmente la mattina presto, alle 4 del mattino del giorno dopo, quindi se voi qua leggete 5 maggio, in teoria da noi è il 6 maggio alle 4 del mattino. Quindi da noi cominceranno il 6 maggio alle 4 del mattino, fino al 13 maggio sempre alle 4 del mattino, successivamente il 13 maggio alle 4 del mattino comincia la campagna Chocobo Boost Expedition, quindi tutte le spedizioni che effettueremo con i Chocobo avranno la possibilità di ottenere il 20% di drop rate in più per quanto riguarda gli oggetti, e anche il 20% in più di esperienza del personaggio affiancato al Chocobo in questione. Il 20 invece di maggio, sempre alle 4 del mattino, comincia la campagna del Premium Boost, ovvero tutte le quest Premium presente all'interno del gioco permetteranno di ottenere il 30% in più di oggetti una volta completate. Il 27 maggio invece avremo la Materia Boost Campaign, dove il successo per il potenziamento delle materie viene incrementato del 20%, e anche gli oggetti ottenibili tramite le quest specifiche per ottenere oggetti per potenziare e craftare materie verrà incrementato del 20%. Non ci sono campagne ancora per quanto riguarda l'High Wind, ma spero che comunque riusciranno a infilarcele in mezzo, magari insieme a quelle del Chocobo, facendo comunque una campagna unica di Expedition, dove sia Chocobo che High Wind avranno comunque un drop rate più alto di oggetti e tutto il resto. Andiamo avanti con la seconda parte dell'evento che è stata aggiunta all'interno del gioco proprio questa mattina, quindi a Brilliant Green Mirage, dove da questo momento in poi, a partire appunto dalle 4 di questa mattina, è stata aggiunta la nuova Arma di Red, che ha praticamente gli stessi effetti dell'Arma di Cloud che abbiamo avuto nella prima parte, quindi l'Amethyst Collar, che comunque possiede un ottimo boost di attacco magico di addirittura 31 punti. Quindi Blizzara Surge come attacco e come Refined, ovviamente, attacco magico e ghiaccio, che ci consente appunto di potenziare le nostre Refined con un'arma free-to-play, che sinceramente parlando non è neanche male, cioè almeno per quanto riguarda le Refined non è neanche male. Per quanto riguarda il boss, ovviamente rimane lo stesso, solo che adesso appunto si chiama Cadoblet Pass Ruin, quindi diventa un po' più forte, un po' più ostico, ma comunque abbiamo attacchi raccomandati fisici e ovviamente debolezza per quanto riguarda il ghiaccio. Sigili raccomandati, quello triangolare, però fondamentalmente non dovreste avere grossi problemi, soprattutto chi possiede comunque Cloud, Tifa, che sono ottimi DPS ghiaccio fisici, anche Yuffie comunque sia può dare il suo contributo e anche Lucia, perché no, con la Bold Eagle può essere effettivamente un'ottima alternativa. Detto questo, ovviamente ci sono anche consigli per quanto riguarda il combattimento con questo Cadoblet Pass, ovvero che bisogna comunque tentare, o comunque è meglio in questo caso, avere nel proprio team abilità fisiche che includono il ghiaccio nel nostro party. Inoltre, essendo che il nostro avversario riesce ad effettuare degli attacchi molto forti di tipo magico, è buono comunque abbassare il suo attacco e ovviamente anche la sua difesa in generale. Ovviamente la meccanica di Force Gauge la sappiamo, ovvero la barra che si riempie man mano nel tempo e noi tramite i danni riusciamo praticamente a buttarla giù. Quindi non cambia praticamente niente dalla meccanica che abbiamo avuto del vecchio Cadoblet Pass nella prima parte, però adesso qui sarà un po' più forte, sarà un po' più ostico. Per quanto riguarda invece i Turks, abbiamo la possibilità anche di ottenere le gemme tramite la Frenzy Battle. Infatti, avendo contribuito comunque con il completamento della Crash, sia in solo e ovviamente anche quella multiplayer, abbiamo la possibilità di ottenere 1000 cristalli, quindi 1000 gemme così, totalmente gratis, che è praticamente il nostro riconoscimento per aver completato le difficoltà più difficili del gioco. Chissà se questa volta sono stato inserito nella schermata, dovrei controllare effettivamente. E poi ragazzi, questa è in assoluto la campagna che penso sia quella più aspettata. Lo avevamo già previsto, lo avevamo già nell'aria, era da mesi che comunque ne parlavamo, era da mesi che erano stati anche liccati degli aggiornamenti, ma finalmente, a quanto pare, Leviathan sarà presente all'interno del gioco. Anche grazie magari a Final Fantasy XVI, no? Con The Rising Tide, che è riuscito un pochettino ad aippare la figura di Leviathan, adesso abbiamo la possibilità di riceverlo anche all'interno di Ever Crisis. Quindi, a partire già da praticamente ieri mattina, abbiamo la possibilità appunto di aprire questa campagna, dove ci sono stati, o comunque dove, avremo la possibilità di ottenere un totale di 1000 gemme blu e addirittura 100 ticket, quindi tanta roba. Ci saranno delle missioni che dovremo completare durante questo periodo, che ci consentiranno di ottenere ben 70 ticket, e poi altri 30, probabilmente tramite login o tramite altre robe. Quindi, diciamo, le missioni, ecco, infatti poi tramite il countdown abbiamo la possibilità di ottenere 1000 gemme blu e altri 30 ticket, proprio per un totale comunque di 100 ticket e poi le 1000 gemme, che però in questo caso sono contate nel periodo di login. Non c'è altro da dire, perché queste sono le notizie più importanti, però finalmente abbiamo l'ufficialità, abbiamo l'ufficialità all'interno del gioco di Leviathan, quindi finalmente sta arrivando. Prepariamoci, perché comunque sia lui essendo acqua, non so, potrebbe essere debole al tuono, potrebbe essere debole comunque... Non so, cioè, se penso un pochettino alle debolezze in generale potrebbe anche essere debole al tuono, quindi chissà, potrebbero arrivare appunto personaggi che comunque sono anche stati inseriti in schedule con skin elettriche e con armi elettriche. Guardasi Barrett, guardasi anche un'ipotetica skin di Sephiroth, che si vociferava prendesse un Arcanum tuono, quindi vediamo effettivamente che cosa riusciamo ad ottenere in generale all'interno del gioco. Detto ciò non c'è altro di cui dobbiamo parlare, l'unica cosa che facciamo insieme, andiamo a vedere se nella... qui, se nella Frenzy Battle, così giusto per flexare un attimino, sono stato inserito nel... sono stato inserito... Allora, qui no di sicuro, perché questi qua sono probabilmente quelli che l'hanno completata prima, quello che è, però in teoria io l'ho completata anche in solo, quindi mi avete inserito nella lista, giusto per flexare un attimino così va, una piccola soddisfazione personale, vediamo se ci siamo, perché... Dico, la prima volta no, perché comunque ho fatto anche quella di Sephiroth, però con quella di Sephiroth non sono stato inserito in classifica, invece qui vediamo se magari... Allora, il mio nome in teoria si è evidenziato, dovrebbe essere comunque appunto evidenziato, quindi... Eccomi! Yes! Sono stato inserito anche nella solo, piccola soddisfazione personale, dai, niente di così scandaloso, però sì, sono contento che sono stato inserito nella classifica della solo, dovrei essere a sto punto anche nella coop, perché ovviamente abbiamo fatto anche le coop, per quanto riguarda la crash, però vediamo se effettivamente siamo stati inseriti nell'elenco, anche perché appunto non vengono inseriti tutti, vengono inseriti soltanto una piccola parte, nella solo addirittura vengono inserite solo 500 persone, quindi immaginate quante in realtà siano poche rispetto in teoria a quelli che dovrebbero essere i giocatori, mentre invece vedete nella multiplayer non sono stato inserito, perché ovviamente la multiplayer è stata completata da molte più persone, però sono contento perché almeno nella solo ho la possibilità di poter avere un piccolo flex, un piccolo riconoscimento personale. Va bene, detto questo non c'è altro da aggiungere, spero che le notizie vi siano state utili, fatemi sapere ovviamente al solito sempre cosa ne pensate sotto nei commenti, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!